Musica Una manifestazione di alto spessore culturale si è svolta all'interno del Salone Pio X della Cattedrale della Città di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Pena, misericordia, riparazione, domanda di giustizia e risposta all'ingiustizia, esperienze a confronto. Questo è il titolo della Due Giorni, organizzata dal magistrato Antonio Salvati e dall'associazione di volontariato Presenza Onlus, preseduto a Don Silvio Mesiti. Direi che c'è bisogno di qualcuno che aiuti, che ha commesso errori o delitti a percorrere un itinerario, prima di tutto, di presa di coscienza delle proprie responsabilità, per formare maggiormente la coscienza e le motivazioni per cui ha commesso delle cose e poi naturalmente aiutarlo a rientrare nei limiti democratici, nei limiti della convivenza di tutti, quale figlio di Dio, dico io, quale amici, quale fratelli. Perché se uno non prende coscienza, prima di tutto, dell'errore, non può andare avanti. Allora io credo che quello che sia importante e che a noi manca è il mezzo di prevenire, prima di tutto prevenire, formare le coscienze, proprio per evitare che si arrivi all'errore. E poi nello stesso tempo, dalle esperienze che noi abbiamo avuto con questi signori, che non dobbiamo chiamare ex-terroristi, ma che hanno commesso degli errori spaventosi, che ci hanno fatto tutte tremare, io credo che sia importante capire che ancora oggi ci sono decine di migliaia di persone, e anche nella nostra terra, Mara, che commettono che non hanno commesso, ma che sono in attesa di giudizio. Ma rivolgiamoci a quelli che hanno commesso veramente degli errori gravi e qualcuno li deve aiutare. E per poterli aiutare bisogna far prendere coscienza della loro dignità, ma per prendere coscienza della loro dignità, cominciando dal carcere, dopo che hanno commesso i reati e sono stati giudicati in maniera definitiva, devo cambiare la struttura penitenziaria, non c'è niente da fare. Ho avuto la conferma senza considerarle persone, per così dire, specialissime, no? Seppur si hanno avuto un loro passato, ho avuto la conferma praticamente che il Vangelo è sempre vero. Gesù l'ha detto un giorno, io sono venuto per dare la vita, sono venuto per i malati, e il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converte in viva. Conversione e vite che esigono tempo, e noi l'abbiamo visto. Abbiamo visto come ciò che un tempo è stato per loro, chiamalo come vuoi, un'infatuazione, una convinzione, una passione, una fede, di cui sono resi conto di non essere veramente proprio tali. Per disegni che si riconosce bene che vuole a tutti, sono arrivati a quelle che sono arrivate. Mi sembrano persone veramente molto belle oggi. Nel passato di ciascuno di noi ci può essere riparabile, è qualcosa di indicibile. Quel che conta lo sappiamo, non è più il passato, è il presente redendo per un futuro che si vuole vivere meglio. Tema centrale dell'evento è stata proprio la giustizia riparativa, la certezza suffragata da anni di incontri fra vittime e responsabili della lotta armata degli anni 70, che il fare giustizia non possa e non debba risolversi solamente nell'applicazione di una pena. Nel corso della conferenza si è ribadito, inoltre, la necessità di non rispondere alla violenza con la medesima violenza, secondo un concetto democratico oltre che cristiano. Fu quanto ero nel carcere di Nuoro nel 1983, ritornando dal carcere delle vallette di Torino, dove dopo un processo, in cui ci fu un'iniziativa di apertura degli spazi, contrariamente a quello che eravamo sempre abituati, alle chiusure delle carceri speciali, in cui non c'era possibilità di movimento. Ormai, come organizzazione, eravamo totalmente frantumati all'esterno, nonostante ci fosse un potere di fuoco altissimo, tanti attentati, tanti sequestri, ma non si capiva più bene dove si voleva andare. E in un momento in cui, invece di richiudersi, ci fu chi cominciò forse ad aprire la porta e dire che c'era un'altra alternativa. E' stato una cosa, un percorso molto lungo, che è durato il passato anni, e mi si è posto il problema del provare a riparare, in qualche modo, attraverso un dialogo di comprensione umana con le persone a cui noi abbiamo fatto del male, che dolori così irreparabili. E la cosa importante è stato quello, da un lato io, di mettermi a sua disposizione, dall'altro quello che mi ha sorpreso molto è il suo riconoscimento nostro, non tanto delle ragioni per giustificare, ma anche di quello che era il nostro dolore. E quindi avere un dialogo di vera comprensione umana. Lei ci vedeva come mostri, ci ha incontrato, ha avuto il coraggio di incontrarci e ha visto quello che dice lei delle persone umane. E questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, questa semplicità. Soprattutto lei ha continuato a chiedermi del presente, chi ero oggi. Non interessava ciò che avevo fatto, ormai questo lo sapeva.